Matteo Salvini è tornato in Campania con una doppia tappa a Sorrento prima e a Positano poi. Il leader della Lega ha salutato l'adesione al partito dei sindaci che guidano i comuni costieri. Accompagnato dal commissario regionale del partito Molteni, Salvini è tornato ad attaccare Regione Comune 5 Stelle. Abbiamo 3D da mandare a casa. De Luca, De Magistris e Di Maio, le parole scandite dall'ex vicepremier per il quale la Campania non ha bisogno di uno showman. Non vedo l'ora di mandare via De Luca il guanto di sfida lanciato al governatore. E a proposito di regionali, dopo la pace interna a Forza Italia con l'endorsement di Mara Carfagna Stefano Caldoro arriva anche la benedizione di Salvini. Caldoro è stato un ottimo amministratore aggiunto. Lo sguardo è però anche alle amministrative di Napoli dove il capo della Lega ha auspicato che il prossimo sindaco possa essere una persona scelta dalla Lega, possibilmente giovane. Ad attendere Salvini però c'erano anche le sardine che dopo l'esperienza a Bologna e Modena hanno fatto la prima comparsa anche in Campania, anche se qui più che sardine si sono qualificate come Fravaglie. Slogan e striscioni per dire che Sorrento non si lega. La pioggia non ha fermato la mobilitazione in piazza Veniero. Organizzate sui social, le Fravaglie hanno portato, oltre agli ombrelli per ripararsi dal maltempo, anche e soprattutto dei libri. Il nostro non è un messaggio d'odio, coltiveremo la cultura contro la paura, hanno sottolineato i promotori dell'iniziativa. Mentre a Sorrento andavano in scena le due iniziative contrapposte, a Napoli sono comparsi striscioni ante i Salvini in Galleria Umberto.